Il tuo marito fuma? No Guarda, ti faccio vedere cosa abbiamo già mandato a Cuba in questi giorni Aspetta, che adesso torno Spalla, va 152 euro, primi, e gli altri, ancora per un'iniziativa, 380 Ci sono quelli lì di seriato Eeeh, costiamo siringhe a tutto spiano Come che le dice alla mia amica? Viva Cuba! Viva, viva